Cambiamo argomento, i problemi di gran parte della società molisana negli interventi di Emilio Izzo e Nicola Lanza nel nostro programma settimanale. Focus in onda questa sera alle ore 21, repliche domani pomeriggio alle 15.30 e sabato sera ancora alle 21, vediamo. Io sono convinto che il Morisè può farcela, che questo territorio ha ragione di esistere, ha ragione di svilupparsi, ha ragione di crescere. Serve un lavoro collettivo, serve un impegno collettivo, serve che i cittadini si riappropriano del bene comune, dei beni pubblici perché manca il senso di comunità. Abbiamo perso un po' il senso di comunità, dobbiamo tornare ad essere comunità, comunità politica, comunità sociale sulle tematiche. Noi possiamo farcela se lavoriamo insieme partendo dai bisogni degli ultimi in questa regione. Quando uno lotta vorrei far capire ai cittadini che non è un pessimista, cioè quando io dico che il lavoro non c'è ma si può trovare, significa che sono un ottimista. Se io vado a lottare su un marciapiede o su un terreno è perché sono convinto che meglio si può fare, perché se no non ci andrei, rimarrei a casa così come Nicola, o Rocco, o Enzo, o Mario, o i tanti amici che in queste cose vengono. Questa è la verità, che noi siamo dei maledetti, ma proprio dei maledetti ottimisti. Queste cose si fanno soltanto se credi che un mondo migliore sia possibile e noi al mondo migliore ci crediamo veramente.